Ciao! Eccoci con un nuovo video, questo oggi spacchettamento e sorpresa, quindi rimanete collegati perché proprio in questo video ci sarà una sorpresa con voi, sono strafelice è un video che faccio in collaborazione con questa azienda che è la Vitamol Cosmetics, che ringrazio mi hanno inviato dei prodotti da recensire, quindi oggi ve li farò vedere, poi in prossimi video faremo la quick review insieme con Prove su Strada che so che vi piace tanto, ma piace molto anche a me perché riusciamo a vedere subito se un prodotto ci piace o non ci piace quindi intanto vi mostro i prodotti che mi hanno inviato e poi rimanete collegati perché ci sarà una sorpresa proprio in questo video allora il primo prodotto che mi hanno inviato è questo, è uno shampoo, la confezione da 100 ml, si chiama Linea 31 ed è uno shampoo ristrutturante all'olio Erbe 31 con cheratina, olio di lino e aloe vera, c'è scritto che riduce l'effetto crespo e lascia i capelli morbidi e lucenti indicato per capelli secchi e trattati, quindi i miei capelli di questo ve ne parlerò presto il secondo prodotto è sempre per i capelli, si chiama Vitaminox ed è un anticrespo, qui c'è scritto uso professionale, la confezione da 100 ml ed è senza risciacquo, con olio di jojoba, vitamina E e proteine di grano il terzo prodotto che vi mostro fa parte della loro linea make up ed è quello che mi ha incuriosita di più so che incuriosirà anche tante di voi perché quando scopriamo questi prodotti un po' più particolari ci piace quindi faremo presto la quick review, si chiama BB Secret Cream la confezione da 50 grammi e c'è scritto che è un prodotto multifunzionale perché riesce a unire le proprietà di un trattamento skin care a quelle del make up non è una normalissima BB Cream perché è un'emulsione bianca che al contatto con la nostra pelle svela un colore straordinario che si fonde perfettamente con il nostro incarnato quindi quando possiamo provare dei prodotti così so già che stiamo tutti in brodo di giugiole quindi di questa presto quick review gli ultimi due prodotti che vi mostro fanno parte della loro linea solare sono un latte solare alta protezione c'è scritto ideale per pelli chiare ma andrà benissimo anche per me perché quando andate al mare proteggetevi sempre il secondo invece è un latte dopo sole e qui c'è scritto che è idratante, lenitivo e al suo interno olio di jojoba, burro di palma e aloe quindi molti di questi prodotti li vedrete in prossimi video sicuramente quella che proveremo per prima è la BB Cream perché ve l'ho detto prima mi incuriosisce troppo e siamo arrivati finalmente al momento della sorpresa sì perché la Vitamol vuole premiare una di voi hanno messo in palio un premio proprio per una ragazza di voi ce l'ho io qui adesso ve lo faccio vedere sì prima ve lo faccio vedere e poi vi dico le regole per partecipare il premio messo in palio da Vitamol è il loro mascara si chiama Nuvola Blue ed è un mascara ad alta definizione con all'interno aloe vera è una full size poi vi hanno messo diversi campioncini due campioncini del loro fondotinta che si chiama Lift Effect che ha all'interno un fattore di protezione 15 due campioncini della loro maschera idratante e lifting due campioncini della crema ricostituente anti-age e due campioncini di crema viso rinnovatrice e adesso vi dico le regole per partecipare e vincere il premio sono 6 ma sono molto veloci se non dovessi essere chiara voce andate giù nell'info box e c'è scritto tutto comunque la prima regola è quella di lasciare un solo commento sotto questo video la seconda regola è quella di essere iscritti al mio canale troverete il link giù nell'info box la terza regola è quella di essere iscritti al sito di Vitamol che è www.vitamol.it lo troverete anche qui in sovraimpressione e anche giù nell'info box la quarta regola è quella di essere residenti in Italia se siete all'estero potete partecipare ma dovete darmi comunque un indirizzo di spedizione in caso di vittoria che sia in Italia la quinta regola è quella di essere maggiorenni se siete minorenni potete partecipare ma in caso di vittoria dovete farmi inviare una mail poi ve la lascerò giù nell'info box in cui ho un genitore o un tutore legale mi autorizza a spedirvi appunto il premio e siamo arrivati all'ultima la numero 6 che è quella facoltativa ossia di mettere mi piace alla pagina di Facebook e di Instagram di Vitamol cioè questa la mettiamo ma è facoltativa perché non tutti hanno né Facebook né Instagram ci sarà una sola vincitrice il giveaway inizierà oggi quindi come vedrete la mia faccia oggi è lunedì 31 luglio come alle 14 andrà online il video quindi siamo già online se mi vedete è iniziato il giveaway e terminerà alle 23.59 di domenica 6 agosto l'estrazione avverrà con il video di lunedì 7 agosto quindi giorno dopo alle ore 14 quindi scopriremo insieme chi sarà la vincitrice e lo faremo tramite il sito randompicker.com intanto mentre parlavo è cambiata la luce comunque sono felicissima di questa opportunità che ci sta dando la Vitamol che ringrazio incrocio le dita per la fortunata vincitrice o il fortunato vincitore perché no io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video ciao